Buongiorno, volevo fare un appello a favore dei ciclisti. Visto che i ciclisti non hanno tutti questi diritti, perché non poterli fare andare anche in autostrada? Mi sembrerebbe giusto. No? Oggi mi sono reso conto che i ciclisti possono andare in giro senza targhe, andare contro mano, andare senza luci, andare senza fricce, sorpassare a destra, andare in galleria vestiti di nero senza luci, andare affiancati, stare in centro alla strada. E devo chiedere scusa ai ciclisti che oggi ho, come si può dire, ho infastidito con la mia presenza sulla zona pedonale, scusa ai ciclisti, perché essendo in giro con le stampelle, ci ho messo un attimo a spostarmi dalla zona pedonale riservata ai pedoni, per farli passare, perché insomma loro hanno i loro diritti, perché loro non inquinano, non inquinando, è giusto che non paghino tasse, anzi dovrebbero non pagare neanche la tassa sulla macchina, è giusto che paghino solo i motociclisti e gli automobilisti. Chi ha la bicicletta di queste persone non dovrebbe pagare neanche le tasse, perché se dovessero dare mille euro di tasse a ogni bicicletta, probabilmente il pilo italiano sarebbe a posto. Ma no, che non sia mai. Poveri ciclisti, mi raccomando, fate in modo che ogni ciclista abbia tutti i diritti, e se un ciclista investe un pedone, o come è successo con quel bambino, non mi ricordo dove, c'era in giro un filmato, o come quel, chi è che era in contromano, quell'automobilista di automobilista, quel corridore di Formula 1 forse, che andava a contromano in bicicletta, è stato tirato sotto da una macchina, il cui l'autista andava regolarmente per la sua strada, e i parenti, visto che è morto, questo povero ciclista, hanno denunciato l'autista della macchina, perché era sulla sua strada, e ha tirato sotto questo che è uscito contro mano, passando col semaforo rosso. Ma scherziamo. Il ciclista ha diritto di fare tutto ciò che vuole. Se investe una persona, ha ragione il ciclista, perché i ciclisti hanno di... Mi raccomando, tutti i vostri amici ciclisti, sono sicuro che hanno questi diritti, e fate in modo che li possano usufruire fino in fondo, veramente, non devono pagare nessuna tassa, né niente. Guai a chi tocca i ciclisti.